Disposta all'archiviazione del procedimento in cui era coinvolto l'ex comandante della Polizia Municipale del Comune di Castellabate, Gerardo Comunale, era finito sotto accusa nel 2015 per presunte irregolarità sulla gestione dei parcheggi a pagamento. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto all'archiviazione del procedimento, rilevando che dalle indagini espletate non emergono elementi di reità. Visto l'esito del procedimento, così come stabilito dalla legge, l'ente si è assunto le spese legali sostenute dal lavoratore per la sua difesa. Il sindaco Costabile Spinelli commenta così la notizia di archiviazione definitiva. Dopo indagini scrupolose che hanno chiarito ogni tassello della vicenda, non è stata rilevata alcuna irregolarità. Accolgo con soddisfazione l'esito con il quale si fa pienamente luce su una vicenda che aveva interessato il Comune di Castellabate ed in modo particolare il dipendente comunale.